Concorso impeculato. Questa è l'accusa mossa nei confronti del dirigente del settore finanziario del Comune di Rieti e degli amministratori di due società incaricate dal Comune di svolgere il servizio di controllo di gestione. I finanzieri del Comando Provinciale hanno così notificato al dirigente pubblico e dall'amministratore di una delle società coinvolte le ordinanze di custodia cautelare, mentre un provvedimento di divieto di dimora su Rieti è arrivato all'amministratore dell'altra società coinvolta. In corso di esecuzione a Rieti, Terni, Spoleto, Roma, Milano e Palermo ha anche numerose perquisizioni presso le abitazioni degli indagati e presso le sedi delle società per reperire ulteriore documentazione utile.